Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video velocissimo, sarà un video flash perché voglio annunciarvi un incontro. Ci vediamo, se vi fa piacere, questo sabato, ovvero sabato 15 ottobre dalle 17.30 alle 20.30 presso l'erboristeria Artemide che per le ragazze di Cagliari e dintorni si trova a Sinnai, in via Ninasuni 28A. Vi lascio tutte le info qua linkate nell'info box ma anche qui in sovraimpressione. Sarà una serata interamente dedicata alla Biocosmesi, infatti in questa erboristeria ci sono anche tanti tanti marchi Eco Bio con ottimo inci. Ci sarà anche il brand Melvita che è arrivato da poco in questo punto vendita. Quindi una serata tra ragazze ma anche ragazzi perché no interamente dedicata alle chiacchiere e alla Biocosmesi. Sarà sicuramente anche un modo per conoscerci, per scambiare due chiacchiere, fare delle foto insieme, scambiarci perché no anche dei consigli. E nulla, io sono super emozionata perché questo sarà il mio primo incontro ufficiale, chiamiamolo così. Fatemi sapere se sarete dei nostri, se ci sarete, lasciatemi un commentino qua sotto. Ovviamente ragazze se potete, anche quella mezz'oretta giusto per scambiare due chiacchiere, per salutarci, fatemi sapere se ci sarete perché per me sarebbe davvero un onore potervi conoscere. In questo punto vendita sono presenti diversi brand, ve ne cito qualcuno così magari vi fate anche un'idea. C'è ad esempio Neve Cosmetics, c'è Alchemilla, c'è la Benecos, la Biohert, ma ci sono anche i prodotti dell'erbolario, ci sono le tisane, rimedi naturali, di tutto e di più, quindi non potete mancare. Tra l'altro ci saranno anche diverse offerte, promozioni, molto invitanti, molto allettanti. Sara, tra l'altro, la titolare è una ragazza davvero molto in gamba, disponibile, oltretutto preparatissima. Quindi ecco, una serata tranquilla alla scoperta della BioCosmesi. Fateci sapere se ci sarete con un commentino qua sotto, io ci tengo tantissimo, quindi se potete passate, vi ripeto anche per un saltino, un saluto veloce, fatelo se potete perché mi farebbe tantissimo, tantissimo piacere. Io vi saluto, un bacio grande e vi aspetto sabato. Ciao!